Sperate inubitati alla vicenda del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Grazie. 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 La serenità di formazione dove sono presenti i giovani che vogliono intraprendere la vita religiosa. Un grazie a tutti, un grazie veramente di cuore. Ma tutti i nostri sentimenti li abbiamo raccolti sull'alzare del Signore perché il grande grazie va proprio a Lui. A Lui che ci ha convocato oggi in questa chiesa francescana, umile, capucina, attorno al nostro pastore e ci ha convocato per onorare un uomo peato al figlio di San Francesco, ma prima ancora figlio di questa terra di Sardegna, da Nicola Nagessi, chiamato grande Silenzio. Un uomo che ha realizzato la sua vocazione, che ha raggiunto il fine per il quale è stato creato, cioè la felicità, la felicità. Mettendoci alla scuola di questo frase semplice, umanamente non dotato, come è stato scritto di Lui, dai Suoi biografi, vogliamo chiedere al Signore che aumenti la nostra fede. Allora grazie di cuore a tutti e Dio vi paghi la carità, come diceva Fra Nicola quando riceveva l'opolo dalla gente. Grazie. 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 con l'unione la Bibbia di San Nicola e le aree che lui ha rappresentato in questa benedetta tua ce l'ha ricambiata per la gioia che abbiamo condiviso per l'esperienza che abbiamo fatto sono stati e lo sono e desiderano essere ancora per questo siamo tutti grazie al Signore più come mescoli esprimono queste grandissime particolari che la loro presenza non sono qui buone case di formazione ma è una visione consolidata ma è in pace grazie a Dio ma è un maestro bravo grazie a Dio 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.